ritengo utile che sia giusta questa campagna per sensibilizzare la popolazione anche se siamo vicini alle olimpiadi e ancora un po tutto da vedere ma sono sicuro che magari con le dovute attenzioni probabilmente si tornerà a fare tutto quello che facevamo prima è un sorriso perché ovviamente bisogna ricominciare a sorridere e riprendere tutte le attività grazie a tutti